Si è aperto ufficialmente il calciomercato per i pro. Trattative, acquisti e cessioni si svilupperanno fino a venerdì 31 gennaio. Lo stop alle ore 20. Pescara a caccia di un centroavanti. È lì che la dirigenza bianca-azzurra ha focalizzato le maggiori attenzioni. Le parole pronunciate dal presidente Daniele Sebastiani nel dopo Pescara-Chievo sono inequivocabili. Obiettivo è trovare un attaccante che faccia giocare la squadra come coloro che sono ora in organico, ma garantendo anche più gol. In uscita c'è Matteo Brunori, messo da parte da Zauri dopo l'erroraccio con Venezia e già con la valigia pronta. Su di lui sembra ridimensionato l'interesse dell'Entella, ma ci sono tanti club di C, in particolare il Cesena. Ma i prossimi giorni saranno decisive anche per capire le sorti di Riccardo Maniero. L'attaccante napoletano, dopo una prima parte di stagione non eccelsa, ha dato importanti segnali nelle ultime due partite con Livorno e Chievo. Il giocatore cerca più spazio per avere maggiore continuità di prestazioni e rendimento e la sua permanenza allo Stato non è certa. In caso di partenza a quel punto servirebbero due centravanti. Il millennial Borrelli è destinato a restare e le operazioni che lo possono interessare sono ipotizzabili in ottica di una partenza futura. Su Borrelli tanti club si sono informati, Fiorentina, Juventus e quel Parma che grazie al direttore Faggiano ha stabilito un asse molto forte con Pescara. Ma anche dall'estero i tedeschi del Borussia Mönchengladbach fanno un pensierino. Sul fronte entrate, tanti sono i nomi sul tacquino dei dirigenti biancazzurri, torna ciclicamente un obiettivo mai centrato nelle stagioni scorse. Luca Vido, l'attaccante di proprietà dell'Atalanta che a Crotone sta trovando poco spazio, fa fatica e non sta ripetendo la buona stagione di Perugia. Il sogno di tanti tifosi è il ritorno di Leonardo Mancuso, cannoniere del Delfino la scorsa stagione con 19 reti e il cui cartellino la scorsa estate è stato ceduto dalla Juventus all'Empoli per 4 milioni e mezzo di euro. La voce è circolata ma la fattibilità è bassa. Difficile che l'Empoli dia all'attaccante in prestito ad una potenziale concorrente. Un'altra ipotesi di ritorno, questa più concreta, sembrava Federico Melchiorri ma sull'attaccante originario di Treia nelle ultime ore c'è stato lo scatto della Virtus Entella vicina alla chiusura dell'affare. Su Gabriele Moncini della Spal sono in pressing proprio l'Empoli, il Frosinone è un Pordenone che sogna la A. Più alla portata Stefano Moreo, anche lì di proprietà dell'Empoli, acquistato a zero in estate dopo il fallimento del Palermo. Moreo ha trovato poco spazio e ancora meno ne troverà ora che ad Empoli scatterà una mini rivoluzione all'organico a seguito del brutto girone d'andata. A Teramo nella stagione 2015-2016 Moreo ha segnato il suo unico gol stagionale proprio al Pescara in Coppa Italia ad agosto. Moreo non sarebbe un colpo da 90, quello che fa sognare i tifosi, ma potrebbe essere funzionale a questo Pescara che ha trovato in Galano e Macini i principali cecchini di un attacco che è il terzo della categoria dopo quelli di Benevento e Crotone. Menzioni a parte per la vicenda Memushai, bisognerà attendere la ripresa dei lavori martedì prossimo per avere aggiornamenti circa un chiarimento tra il centrocampista e il tecnico Luciano Zauri. La società ritiene Memushai un giocatore fondamentale, imprescindibile. Una sua eventuale dolorosa partenza passerà da una rottura irrimediabile tra tecnico e giocatore, cosa che non giova a nessuno. Per questo l'auspicio è che la vicenda a freddo si ricomponga al più presto.